Allora facciamo così Non vorrei che poi i miei colleghi si arrabbiassano Possiamo ricattarlo? Vai prendendo dall'altro senza inquadrare Guarda come stanno tutti perfetti E per quello che gli avete fatti i quadrati Dite la verità Gli hanno fatti i quadrati apposta Cacchio ci ha scoperto Non ho mai avuto così tanti fotografi Dicono sempre tutti così Cosa controlla? Se siano perfetti o non perfetti Se no non stanno nella scatola È quadrata Questo è un mal fatto Qual è il mal fatto? Facciamo quattro scelte C'è la prima Poi c'è una seconda Che è il piccolino Poi ce n'è una terza Che è quello che è certificato E poi c'è proprio quello che magari ha la tacca Lasciamo Non si conserva Scusate ma è un po' del carmagno lotto però Il carmagno lotto Grazie 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 Grazie